A partire da oggi al quartiere Vomero e nel centro, nuovi monopattini saranno disponibili per le strade di Napoli. La sperimentazione, già avviata da Elbiz, coinvolge adesso anche la Rebi, leader europea della Smart Mobility, che progressivamente collocherà sul territorio cittadino 900 veicoli elettrici. I primi 250 consegnati tra oggi e domani, nelle prossime settimane è prevista un'estensione dell'area operativa e del numero dei monopattini. La mobilità condivisa è una cosa che sta trasformando le città in Italia e Napoli non può essere lasciata fuori da questa rivoluzione. Noi partiamo con 250 mezzi, l'area del Vomero e il centro città, inizieremo il servizio oggi e poco a poco ne prendo altre aree su Napoli. È vero che la mobilità elettrica in questo tempo da Covid, mobilità sostenibile, è molto importante dalla città, da essere più smart e cominciare con questi mezzi da mobilità. È un servizio di mobilità semplice ed ecologico che integra quello del trasporto pubblico e mira a facilitare spostamenti brevi nell'area urbana. È una soluzione che rispetta l'ambiente e che ci aiuta a realizzare la cosiddetta mobilità dell'ultimo miglio, ovvero quei collegamenti tra piani, soprattutto nelle aree pedonali, ed è soprattutto quella mobilità che ci aiuta tante volte nel tempo libero o per motivi di lavoro a spostarci in modo alternativo ai mezzi che inquinano. Lanciamo quindi un servizio anche nella zona collinare e ci avviciniamo così pian piano a raggiungere anche altri quartieri della città rispetto al centro. Dotati di GPS integrato, i veicoli sono sempre localizzati e controllati, così come i dati dell'utente, la quantità di chilometri percorsi e di viaggi effettuati. Allora, per utilizzare il monopatino da Revi è molto semplice. Abbiamo bisogno di scaricare la app, troviamo il monopatino che è più vicino e leggiamo il codice QR che è impresso, allora è sblocato e possiamo cominciare il ride. Quando finciamo abbiamo bisogno di parcheggiare in un'area autorizzata per non molestare le pedoni e anche il traffico e facciamo una foto. E questa foto, quando abbiamo finito il ride, possiamo vedere se è ben parcheggiato e non disturba. E il prezzo anche per questo servizio è 0,50 per lo sblocco e 20 centesimi al minuto. E per un po' incoraggiare l'utilizzo di questi mezzi e festeggiare il nostro arrivo a Napoli, abbiamo fatto un codice da Napoli e Revi e noi vi offriamo 5 euro per l'utilizzo e così puoi assaggiare come va tutto.